...a metà gennaio con la prima di ritorno che vedrà i rossazzurri sul campo del Lanciano. Ma intanto la Lega di Serie B ha diramato il calendario di anticipi e posticipi per le prossime giornate. Per quanto riguarda il Catani, i rossazzurri anticiperanno al 23 gennaio la gara casalinga contro la Provercelli. Si giocherà venerdì sera il 23 gennaio alle 20.30, mentre Catania e Crotone si disputerà in posticipo lunedì 16 febbraio sempre alle 20.30, mentre Pescara-Catania in programma domenica 22 febbraio alle 15 e quindi non il sabato.